Getta acqua sul fuoco delle polemiche Pietro Molinaro. Il presidente di Coldiretti Calabria risponde tramite una lunga e dettagliata nota alle critiche mosse dalla CGL dopo la manifestazione dell'8 dicembre a Rosarno per rivendicare i diritti dei lavoratori degli agrumeti. Una filiera che inizia dalle mani di migliaia di immigrati provenienti dall'Africa che ogni anno si riversano nella piana alla ricerca disperata di un impiego. Accampati in alloggi di fortuna, i raccoglitori lavorano circa 9 ore dalle 7 alle 16 negli aranceti per un guadagno netto che difficilmente raggiunge i 15 euro giornalieri. Una condizione intollerabile sulla quale Nino Costantino e Celeste Logiacco della CGL avevano posto l'accento nei giorni scorsi accusandola Coldiretti di scarsa attenzione alla condizione disumana dei lavoratori di Rosarno. Una nuova schiavitù sulla quale Pietro Molinaro afferma di voler intervenire aprendo prima di tutto un tavolo di concertazione con il sindacato. I lavoratori extracomunitari rappresentano una risorsa essenziale non secondaria della filiera, scrive il presidente di Coldiretti Calabria, ma per interrompere il circolo vizioso di svalutazione del prodotto è necessario intervenire su questioni come la percentuale di succo contenuta nelle bibite prodotte con le arance di Rosarno, pagate una miseria e vendute a peso d'oro dalle multinazionali.